Good morning a tutti voi e buona giornata. Capitolo 13, versetto 31. Dopo la porta stretta, stiamo leggendo in modo consecutivo il Vangelo. In quel momento si avvicinarono alcuni farisei a dirgli, parti e vattene via di qui, perché Erode ti vuole uccidere. Ha già ucciso Giovanni Battista, ora c'è un'altra voce profetica, c'è un'altra voce che è a servizio della verità. Ed Erode rappresenta la scempiaggine umana, che di fronte alla verità noi talvolta scegliamo di farla tacere, incontriere invece di farci istruire dalla verità. Ecco, perché c'è sempre una possibilità che la verità illumini appunto la nostra vita. Ma questo domanda responsabilità, domanda discernimento, domanda il fare delle scelte, ecco. E forse talvolta anche noi, no? Nella nostra quotidianità, di fronte a qualcosa che intuiamo che possa essere vero, può accadere che scegliamo la via più comoda, facendo tacere, non uccidendo nessuno per carità, ma facendo tacere la verità appunto. Ed Egli rispose loro, andate a dire a quella volpe. Contrariamente dalla nostra cultura, la volpe in Israele è pensata come un animale sciocco, non come appunto noi, furbo. Ecco, io scaccio demoni e compio guarigioni, oggi e domani. E il terzo giorno la mia opera è compiuta. Però è necessario che oggi, domani e il giorno seguente, io prosegua nel cammino. Gesù non si ferma. È addolorato per questa notizia, ma non si ferma. Deve proseguire nel suo cammino. Anche noi desideriamo proseguire nel nostro cammino. Nel nostro cammino nel quale cerchiamo di far scendere dentro di noi la parola, nella profondità della nostra coscienza, là dove operiamo le nostre scelte, e di farla poi uscire attraverso la nostra vita, attraverso le nostre parole, i nostri gesti, il nostro modo, ripeto, come spesso dico, il nostro modo di stare al mondo, ecco. Ma è necessario che oggi, domani e il giorno seguente, io prosegua nel cammino, perché non è possibile che un profeta muoia fuori da Gerusalemme. Gerusalemme, Gerusalemme, tu che uccidi i profeti. C'è veramente una parola accalorata e dolorante di Gesù, ecco. Tu che uccidi i profeti e lapidi quelli che sono stati mandati da te. Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come una chioccia ai suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto, come una chioccia ai pulcini. Sono venuto a portare un Dio di misericordia, di tenerezza, ho voluto raccogliere tutti attorno a me, ma non è bastato. Ecco, la vostra casa è abbandonata a voi. Vi dico, infatti, che non mi vedrete, finché verrà il tempo in cui direte benedetto colui che viene nel nome del Signore, quando Gesù, appunto, entrerà poi in Gerusalemme. Bene, le cose belle della giornata di ieri. Ieri è stato per noi il giro di boa, come dico io, cioè a metà settimana. E a metà settimana, insomma, deve esserci una svolta. Ecco, le settimane comunitarie, come in tutte le esperienze, normalmente, se non succede qualcosa di negativo, ecco, sono esperienze molto positive. Ma poi ce ne sono alcune, secondo me, che hanno sempre una svolta a metà settimana. E tu lo capisci sempre un po' dopo, eh? Per cui non so ancora se ci sia stata. Ma ieri sera ho letto... Noi abbiamo un pannello dove i ragazzi condividono le proprie cose. Ho letto molto entusiasmo, molta gioia. Poi ieri sera abbiamo fatto un'attività nella messa in cui ho chiesto loro di scrivere, ecco, qual è il mio legame con Gesù? Chi è per me Gesù? E ho cominciato a leggere queste risposte e vengono fuori le cose più strane, certo. Ma anche molte cose interessanti e in ogni caso il fatto che nessuno dica di non avere un legame con lui. Ecco, interessante questa cosa, ecco. È molto bella, da speranza. Anche se talvolta vediamo i giovani lontani, no? Dalla fede, dal cristianesimo, dalla chiesa. E certamente ci sono molte ragioni per ritenerli lontani. Loro stessi, credo, siano disorientati anche nella propria fede. E cerchiamo di dare loro una mano come cerchiamo di far sì che la parola dia una mano a noi perché anche per noi adulti, no? La fede è sempre appunto un cammino che non finisce mai. Ale, buona giornata a tutti voi. Grazie a tutti.